Un talent sui libri, un progetto molto audace, come avete capito che potevate portarlo in tv? Essendo una scommessa assolutamente, dagli esiti assolutamente imprevedibili, è nata nel corso di una conversazione tra me e Andrea Vianello. Perché non pensare di fare un talent sugli scrittori? Partendo dal presupposto che in Italia ci sono tantissimi scrittori e che a differenza di quanto sostengono i soloni dell'accademia, quelli con la puzza al naso, la scrittura è un'attività fondamentale che va incoraggiata e non va messa in contrapposizione con la lettura. L'idea era proprio lì, cioè era proprio nella sfida di rappresentare attraverso la televisione una dimensione che di solito è mentale, emotiva, completamente privata. Era lì l'intuizione e poi quando è stata lanciata pubblicamente e sono arrivati 5.000 manoscritti abbiamo capito che il materiale su cui costruire il programma c'era. Tra te, Andrea e Giancarlo, vi siete dati dei parametri per giudicare i testi? Io direi che tra noi sono senz'altro la più democratica nel senso che io leggo tutti i libri che sono scritti bene. Per me basta che un libro è scritto bene e mi piace. Fantasia, memoir anche, saga familiare, non importa. Per me è la scrittura, la musica, il ritmo, le parole proprio che mi interessano. Le prove d'ingresso, questo manoscritto, in effetti noi non lo possiamo leggere e non ce ne possiamo innamorare. Quindi noi ci possiamo soltanto fidare della vostra capacità, del vostro intuito, del vostro gusto. Il programma si evolve man mano, per cui cercheremo di raccontare di più i manoscritti attraverso dei campioni che leggeremo, che faremo leggere agli autori e poi attraverso il lavoro delle prove che facciamo in studio con gli autori dove loro hanno modo di scrivere e chi sta a casa a guardare può vedere com'è la loro prosa, come riescono a costruire una frase o una scena. Abbiamo a che fare con dei racconti di vita e di esperienza personale e anche qui va detto che poi tutti noi scrittori mettiamo sempre una parte di noi delle nostre esperienze in ciò che raccontiamo. Anche quando raccontiamo le vite di altri c'è sempre la nostra vita lì dentro, magari anche frazionata e divisa tra vari personaggi. Abbiamo visto un bel po' di fantasy con il quale siamo stati abbastanza impietosi per la verità, abbastanza severi. Abbiamo visto qualche storia a sfondo sociale, abbiamo visto meno gialli e meno soft porno di quello che mi aspettassi. Abbiamo visto un po' di ciclit, letteratura da pollastrelle. Abbiamo visto un campionario vario di ciò che esiste. Abbiamo visto anche riflessioni individuali, solipsismo, tentativi di prove d'autore, tentativi di trovare una lingua da parte di italiani immigrati o figli di immigrati, cioè di persone che si appropriano della lingua italiana, che vengono magari da paesi dell'est e che trovano nella scrittura il modo migliore per appropriarsi anche dell'identità culturale del paese che li ospita. Insomma, un campionario estremamente vasto di persone felici, tristi, problematiche, superficiali, concentrate, l'Italia. La scrittura può essere un modello vincente per i giovani, ma per tutti? Non deve essere giovane per essere una scrittura. Anzi, io non posso immaginare scrivere un romanzo tipo quello che ho scritto, come una di, per esempio, 20 anni. Succede, ma raramente, perché secondo me scrivere un romanzo proprio ci vuole un po' di esperienza e questo riceviamo purtroppo solo con età. Voi siete anche un'academy? Insegnerete a scrivere a questi scrittori in erba? L'idea è di dare alcune linee di guida riguardo a come si scrive, sempre con un criterio estremamente soggettivo perché noi siamo tre romanzieri, non siamo accademici, non siamo degli editori, quindi in base ai nostri gusti personali ma anche all'esperienza del nostro lavoro, quindi con anche una certa competenza artigianale, diciamo. Il tema è controverso, nel senso che alla fine, secondo me, la scrittura non può essere usata come un pretesto per affermarsi. Si affermerà chi avrà dimostrato di avere un profondo amore della scrittura e una vera necessità di scrivere.